bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video su weekend caldo bollente di vi in party di trombe di commenti allora diamo inizio non può strombare così nel microfono non continuo a dire ma che non lo fermi quando gli parte la tromba lo capisce per niente non capisce qualcosa di strano ma riesco a prendere la ica non ci credo ai ragazzi noi ragazzi c'è devo giù ha chiamato lavorato è morto jumps e beh ci sta non lo so non lo so però preso una bella e che è bianco in aica e bianco se se no va giù va giù va giù subito su yev è andato anche yev è andato anche yev bella la kill su winx attenzione se lo trombano con una facilità incredibile un po come farà più tardi la fami con il mio povero sedere allora vediamo se riusciamo ad andare a vedere qualcun altro ma la performance bellissima partita la più bella degli italiani importante a questo punto anche il power ranking perché ogni punto che fanno magari gli aiuta a scalare un pochino la top è vero è vero è vero punti assolutamente attenzione perché da sopra viene focussato oh la prova peccato poteva essere una magia 67 punti ragazzi ecco a prendere il c***o ma bravo bravo io applauderei io applauderei a snaghe da steelix a izzi grandi grandi ci hanno regalato un'altra partita da vedere dai che abbiamo due team a reddito devono 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 più jeff più jeff 3 3 3 3 non si fermano quando c'è più tempo di pensare si è dentro così dai dai let's go let's go non ci si ferma si spinge si spinge 46 punti trovato let's go dai dentro così 100% avanti ancora adesso abbiamo perso izzi eh benji fish intanto killa è doppia 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 una killa anche di thomas eh si se riuscissero a togliere vai 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 è lì col charge in tiro si ma è tutto fermo sembra giuderone in creativa di mattina allora 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 c'è bisogno di fare queste cose ok avanti 39 punti devo sempre mettere in mezzo da me la storm dai smakhi dai smakhi prendi la vittor 30 sotto però sei 5 sopra let's go non è tanto 13 team dentro 72 punti non è male è ancora vivo 74 punti non c'è più la storm let's go let's go smakhi dai smakhi va bene così ragazzi non mi fa vedere il repleto 74 per dio va bene killato da benji 31 tir su 31 è live il baffone ragazzi lo vediamo io comunque laggo un po' di più eh oh attenzione me ne è contestato perché il baffo sta feitando fermi 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 l'ho visto però l'ho visto sparare mi sono ingasellato era il viscose viscose classifica guarda partite o io non ce l'ho è come fai ma mi prendi per il dai non ce l'hai deficiente andiamo mi prende per il co io ho ancora pirla che ci casco e questo il problema bravo complimenti no vabbè io non ce la posso fare così il ben giovane il ben giovane quanto al ben giovane senza world cup mezzo milione di dollari di earnings ragazzi circa quanto faccio io al mese andiamo allora no 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 non è vero non è vero non è vero come si parla non sono un campionato la di loff possiamo giocare tutti che in così mi sembra un modo o no io credo che sia il modo migliore questo ascolti ed io faccio la specie la faccio e la faccio diciamo che i base e il off finciamo tutto sì 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 se vinco una partita corronuto in piazza duomo lo dico lo dico vediamo allora lei e le sue trove lontano da me lontano la proposta siamo vero competitive da castare quale sarà non si sa quindi qua e ogni quanto sono gli sai ogni ogni anno no 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 se ne fanno 34 all'anno figa la mia moglie sì è così è così è arrivato un milione ragazzi mette sullo strappone già sentito già lo sei no 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 mettono siamo dentro siamo dentro c'è stato un piacere arrivederci è stato un piacere non c'era storia sono attaccati vero si si ma poi gli ha fatto una cecchinata da sotto verso sopra con la terza moving che si stava chiudendo follia questi sono questi sono non sono oliati questi qua sono direttamente olio puro figa si questo è l'olio proprio l'estratto 100% direttamente follia pura follia pura ragazzi 235 punti alla hits più difficile delle quattro questi sono i favoriti per la vittoria esprimermi sinceramente no andiamo let's go cala io già la già la cim cim bling bling sa che già la e sic con demoni e de pochi son già la cim cim bling bling can't stop e che sì che già la già la che era ma mattia nasi si è uno 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 mattia sono tutta 90 gradi no sono tutta 90 gradi lo voglio sentire andiamo venga a reggere le vado lontano da me ma dove è andato mi scusi chi eh l'avete lontano l'avete lontano quello se ne va eh vengo a prenderla vengo a prenderla con calma con calma con calma con calma io sono antman non posso essere visto sono piccolissimo io sono cutman no no cutman io non volevo sapere eh 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 le mani congelate ma scusa ma non si muovono le mani tecnet 99 settimo mese ma non si muovono le mani ma quello ho preso quattro cazze in faccia era quattro cazze in faccia a fare padella findus no vedi che schifo io sono vergognoso no raga è la prima parte a freddo come la bestia allora io vi voglio dire che lo avete raggiunto non io voi perché questo è per voi vi voglio bene vi voglio ringraziare siete la mia family la mia family e non ci fermeremo certo qui è solo il primo passo è solo il primo passo il miglior non è molto lontano eh si va avanti qua ragazzi si va avanti let's go grazie di cuore grazie di cuore vi voglio bene vi stringerei uno per uno vi abbraccierei uno per uno grazie di cuore grazie di cuore